Lutto al Teatro San Carlo di Napoli per la morte di Antonella Valenti, prima arpa dal 1987 dell'Orchestra del San Carlo. Morta a 55 anni, musicista molto talentuosa, aveva vinto tanti premi anche a livello internazionale, si era esibita anche sui palchi della Scala di Milano e del Reggio di Torino. Antonella, nata a Trieste a soli 5 anni, aveva cominciato a studiare l'arpa, diplomandosi poi con il massimo dei voti al Conservatorio Tartini. Tra i premi vinti nel corso della sua carriera, il primo premio al concorso internazionale per la formazione dell'Orchestra Giovanile Europea, diretta da Claudio Abbado.